La Valle Camonica Alla ricerca dei segni che la caratterizzano Segni che l'uomo ha lasciato su questo splendido territorio Segni del tempo che passa Segni della tradizione contadina, artigiana e industriale Che i valligiani conservano con amore e cura Attraverso iniziative, musei e manifestazioni Benvenuti in Valle Camonica La Valle dei Segni L'uomo ha lasciato in Valle segni profondi Più di 10.000 anni di storia si sono stratificati nella roccia Negli edifici, fino nel cuore più profondo della natura di questa terra E questi segni, quasi come dei semi Hanno germogliato Lasciando tracce e suggestioni arrivate sino a noi Grazie 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 Grazie